Qualche tempo fa, Massimo Cacciari, in maniera lapidaria, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, riconfermò questa opinione dicendo che l'Unione manca di Europa, la nostra Europa manca di Unione. Tutto questo deve cambiare. Non che dubbio che l'Europa attraversa una crisi di struttura e non solamente una crisi economica e finanziaria. La verità è che oggi appaiono indeboliti gli stessi fondamenti di quello che noi chiamiamo la civiltà europea, cioè l'affermazione della centralità della persona e della comunità, in particolare dei corpi sociali intermedi, naturali e volontari. L'economia sociale di mercato, lo stesso sistema di garanzie sociali. Il nostro continente quindi in questo momento ha lo Stato attuale attraverso una situazione di particolare debolezza. debolezza economica per la crisi economica e finanziaria, debolezza sociale per il tasso altissimo di disoccupazione, debolezza politica per le crisi della legittimità democratica. attraverso in particolare una crisi culturale, morale e spirituale. Sembrano del tutto scomparsi i valori fondanti della nostra cultura e della nostra civiltà. La stessa identità europea appare offuscata, sono del tutto dimenticate le radici del continente. Fino alla fine del secolo scorso l'Europa era un sogno, era una speranza. Il crollo del comunismo, la riunificazione delle due germane, la liberazione dei paesi dell'est. L'Europa finalmente, come disse Giovanni Paolo II, respirava a due polmoni. La mia generazione, ancora prima degli ultimi anni del secolo scorso, negli anni 60 e 70, sognava l'impero europeo di 500 milioni di abitanti dall'Atlantico a Lurale che potesse competere e tenere testa da un canto all'Unione Sovietica, dall'altro canto agli Stati Uniti in America. Che piano poi il processo si è arrestato e sono venuti i problemi. È rimasta perdurante la separazione tra l'unione economica e monetaria da quella politica che non è mai arrivata. Si è allargata sempre più la distanza tra i pochi e la burocrazia di Borussia che è diventata sempre più pesante, oppressiva, opprimente. La tecnocrazia e il mercato hanno preso il sovravvento sulla legittimità democratica e sulle sovranità popolari. Persino i sistemi elettorali continuano ad essere diversificati da paese a paese. alcuni paesi presentano collegi elettorali ampissimi, grandissimi, altri dei collegi elettorali ristretti e limitati. Alcuni paesi fanno le elezioni europee a liste bloccate, lunghissime o cortissime. Qualche paese ha lo sbarramento all'1,8%, altri paesi al 3%, altri al 5%. Alcuni paesi addirittura fanno votare a 16 anni, come in Polonia, come in Austria, altri a 21 anni, altri paesi a 25 anni. In pratica l'Europa anche da questo punto di vista è completamente disarticolata ed è poco conosciuta tra cittadini di paesi europei. La crisi politica e culturale d'Europa precede la crisi economica e finanziaria ed anche le attuali difficoltà. È chiaro perciò che come scrisse tempo fa Giovanni Reale, nelle Radici Culturali e Spirituali dell'Europa, a questo punto, ed è stato già detto, non basta più nemmeno una Costituzione, una Carta Costituzionale d'Europa redatta in maniera astratta e prevalentemente su basi giuridiche ed economiche. Non basta questo tipo di Costituzione a creare il cittadino europeo. Non basta una Costituzione a dare un'anima all'Europa. Del resto lo stesso grande pensatore contro-rivoluzionario Joseph De Mestre riteneva che le Costituzioni non possono essere scritte in alambicchi, nel chiuso di qualche stanza, ma derivano dalle circostanze, dagli usi, dalle tradizioni, dai costumi. È stato ricordato all'inizio da qualche relatore, le Costituzioni derivano anche dalla forza, dalla potenza dei singoli Stati. E oggi Domenico Fisichella, il collega e politologo che ha pubblicato nei giorni scorsi un libro Sovranità e il diritto naturale di Joseph De Mestre, avrebbe fatto dire a De Mestre queste parole che vanno benissimo per i nostri giorni. Non bastano carte costituzionali trattate che per di più possono essere mostruose e agglomerati di infiniti articoli, e lo ricordava il nostro Presidente, per regolare certi delicati equilibri continentali, ma giova soprattutto la presenza di una comune coscienza nel quadro di valori condivisi pur della varietà delle specifiche identità nazionali. Finora, in pratica, i governi, le classi dirigenti europee hanno voluto solamente realizzare un'area nella quale persone, capitale e merci potessero circolare liberamente, in un'ottica esclusivamente economicistica. In tale contesto si spiegono i segnali di eurocettivistismo provenienti dalle singole opinioni pubbliche nazionali, nonché realizzarsi delle prese di posizione degli Stati Uniti. In effetti l'Unione Europea non può essere solamente una zona economica di libero scambio. Essa avrebbe dovuto essere fin dalle origini un organismo politico, una terra di diritti, una realtà che non si contrapponga alle singole patrie nazionali, ma le colleghi e le completi. Avrebbe dovuto essere, cioè un soggetto politico che non neghi la realtà dei nostri Stati nazionali, ma li rafforzi di fronte alle grandi sfide di un orizzonte sempre più basso. I scenari internazionali attuali sono caratterizzati da il movimento e l'emersione di subcontinenti indiano, cinese, africano e dell'America Latina. Dalla fine della guerra bipolare est-ovest e dalla nuova contrapposizione tra mondo occidentale e dell'Islam, questi nuovi scenari dovrebbero indirizzare ed incoraggiare l'Europa verso la costruzione di un soggetto politico forte ed unito. Questa sfida però si potrà vincere solo partendo dalla riscoperta dell'identità europea come elemento fondante delle istituzioni politiche. L'obiettivo strettamente economico ha dimostrato di poter funzionare solamente quando le cose vanno bene. La maggior parte dei paesi hanno diritto prima al mercato comune, poi all'Unione Europea e poi all'Unione Monetaria per motivi di convenienze economiche. E quando le cose andavano bene, appena le cose sono incominciate ad andare male, sono aumentate le reazioni e li distingo. Quando aumentano i timori per l'incertezza futura e per la crisi finanziaria ed economica, si affacciano spinte populistiche e non do a questo termine alcuna accezione negativa e si affermano visioni particolaristiche che stanno mettendo a rischio l'intero edificio comunitario. Si è detto che la globalizzazione avrebbe dovuto distruggere lo Stato nazionale. I trasporti, le comunicazioni, le reti transnazionali, le organizzazioni internazionali, le istituzioni multinazionali avrebbero dovuto soppiantare i singoli Stati nazionali e i legislatori nazionali. Ma alla luce di quanto è capitato con questa crisi, noi abbiamo verificato invece che sono stati gli Stati nazionali a salvare le banche, a emettere liquidità nei sistemi economici. Il G20, il Foto Monetario Internazionale, le istituzioni comunitarie non hanno fatto niente finora per mettere un'argine a questa crisi. al momento cioè di lasciar fare che si autoregolamenta da sé e la tecnocrazia internazionale non hanno fornito una valida alternativa allo Stato nazionale. Anzi, l'attaccamento allo Stato nazionale, ed è stato ricordato da petrolio. L'attaccamento allo Stato rimane talmente forte. Tutte le rilevazioni, tutte le indagini effettuate nei singoli Stati nazionali hanno dimostrato che il numero di chi si considera cittadino nazionale è molto più elevato di chi si considera cittadino del mondo cittadino europeo e persino di chi si considera attaccato ad una piccola patria locale. In pratica solamente gli intellettuali nord, snorbe e radical chic dicono di appartenere a una società più vasta e si definiscono europei e cittadini del mondo. Guardate, c'è una recentissima indagine fatta dalla De Lort, ma multinazionale di consulenza, e presentata nell'altra Camera della Carta, nella Camera dei Deputati, in un'altra sala un mese fa, alla presenza di Antonio Tagliani e della Presidente della Carta, che dà dei risultati sconvolgenti e che non sono stati diffusi. In pratica la delusione, il disaccordo, la disaffezione dei cittadini europei e di tutte le classi sociali e di tutte le fasce di età dal punto di vista anagrafico è spaventosa, dovrebbe cominciare a far circolare questi dati e queste notizie. Ma che adesso? La Brexit ma anche le recentissime elezioni francesi dimostrano che c'è questa separazione tra elite e popolo, tra basso e alto, come si suol dire in questo periodo del tempo. Basta vedere dal punto di vista delle zone come si sono configurati, espressi gli elettronali. Quando la Repet prende solo il 5% a Parigi e invece fa il pieno di voti nei distretti industrializzati dove c'è disoccupazione e dove l'integrazione è difficile, ci sarà anche un motivo perché Parigi voti in una certa maniera motivo per cui i Parioli qui votano in una certa maniera, ovviamente a Monte Napoleone voti in una certa maniera mentre la periferia di Roma voti in un'altra maniera. Ci sarà anche una spiegazione di questo. Per tali motivi oggi l'Europa si trova di fronte al milio, o guarda alla sua storia milenaria, ritrova le sue radici, recupera i valori di città, solidarietà e identità, ovvero è destinata a scivolare verso un progressivo svuotamento dell'istituzione europea con conseguenze negative anche sui singoli stati, anche sulle singole nazioni e sui singoli uomini. o addirittura, ed è stato anche detto questa sera, dovevano assentere alla declagrazione di tutta l'aria con il tramonto di un sogno. Sono molto illuminanti delle parole che il Cardinale Razzler, non era ancora Papa, pronunciò al Senato della Repubblica proprio sull'Europa, disse la fissazione per iscritto del valore e della dignità dell'uomo, di libertà, uguaglianza e solidarietà, con le affermazioni di fondo della democrazia e dello Stato di diritto, implica un'immagine dell'uomo, un'opposizione morale e un'idea di diritto niente affatto ovvia, ma che sono di fatto fondamentali fattori di identità dell'Europa. Nel 1900, nel 1799, il giovanissimo Novalis, uno dei padri del romanticismo tedesco, scritto in un libro, la cristianità, ossia l'Europa, che desto scappò fuori gli intellettuali del tempo, in un momento in cui trionfava la rivoluzione digitale di giacobinismo, la laicizzazione della società, protestarono perché Novalis chiedeva di recuperare le radici cristiane dell'Europa. Oggi ci troviamo nella stessa situazione, siamo vivendo la stessa situazione, eppure, e lo dice un cattolico impegnato nel sociale, eppure nemmeno il mondo cattolico sembra rendersi conto di quanto sia assordante il silenzio nei confronti del cristianesimo. Giovanni sono memorabili, i discorsi di Giovanni Paolo II sulla marginalizzazione della fede cristiana e della cultura cattolica. In Europa, in realtà, è impossibile compiere una cesura tra cultura, politica, arte ed economia, vale a dire una cesura tra la vita di ciascuno di noi e la storia del continente. Indipendentemente dal credo di ciascuno di noi, il credo politico, etico, religioso, è difficile dimenticare che i valori fondanti dell'Occidente sono un'eredità del cristianesimo. Ma del resto, passa a vedere l'atteggiamento dell'estremismo islamico e dell'Isis, che identifica l'Occidente e l'Europa con i cristianesi, tanto che ci definisce tutti crocianti, siamo tutti crocianti. Allora, oggi è una sfida che noi dobbiamo affrontare e questa sfida presuppone però una consapevolezza della nostra identità storica e culturale. D'altro canto, l'Europa unita oggi è una realtà dalla quale non possiamo prescindere, quindi accanto alle critiche e gli aspetti negativi dell'Europa c'è da dire che è una realtà dalla quale non possiamo prescindere, non possono prescindere nemmeno i singoli stati. In 25 anni abbiamo fatto un'unificazione volontaria, l'America per introdurre il dollaro ci ha messo un secolo, per fare la confederazione ha dovuto fare una guerra civile, da noi senza guerre e senza conflitti si è creata l'Unione Europea. Allora la domanda in conclusione è questa. È possibile un'altra Europa? Tutti dobbiamo essere consapevoli che siamo di fronte a un miglio e che ci troviamo in mezzo al guadro. Dobbiamo andare avanti e non possiamo permetterci di fermarci al guadro. Abbiamo un mondo nuovo dinanzi che sta spazzando istituzioni, opinioni, tradizioni, costumi, persino i trattati, persino in discussioni il trattato di sceme, persino i confini europei sono messi in discussioni. Nemmeno muri e fili spinati riescono a fermare la massa che arriva dal terzo mondo. Io sono cominciato che se saremo uniti riusciremo a farcela, ma per farcela l'Europa dovrà assumersi di fronte al mondo le proprie responsabilità, dovrà smettere di chiedere perdono al mondo intero per la sua storia e per il suo passato e dovrà anche caricarsi di responsabilità militari contro il fondamentalismo italiano. Grazie. Grazie.